Allora, rapidamente perché mi sembra i tempi siano molto stretti, io sono Valeria Galimi e lavoro al dipartimento, sono una storica dell'età contemporanea e lavoro al dipartimento SAGAS dell'Università di Firenze. Con me c'è l'assegnista, la dottoressa Chiara Renzo, che è all'estero, quindi parlerà da remoto e mi fa piacere salutare alcuni del rappresentante del consorzio, appunto c'è Gabriele Anocentini, rappresentanza del Museo della Deportazione e della Resistenza di Prato, ci segue da lontano Giovanni Cipani, da remoto Giovanni Cipani, che è il presidente dell'associazione Essere per non dimenticare. Mi prendo io qualche minuto di introduzione per dare qualche elemento sulla cornice e gli obiettivi del progetto e poi lascio alla dottoressa Renzo il compito di spiegare i contenuti e i risultati di questo progetto. Come appunto ci ha detto anche il professor Labanca, questo è un progetto di storia che si inserisce in una lunga, anche questo diciamo progetto di storia del territorio, della nostra area regionale, che si inserisce in una lunga tradizione di rapporti tra l'università e la regione toscana, perché riprende un tema che io da studentessa avevo avviato, quello dei luoghi di internamento durante la seconda guerra mondiale per civili, all'interno del grosso lavoro che il professor Renzo Collotti, che era professore ordinario dell'Università di Firenze, aveva condotto per una decina d'anni all'interno appunto del tema della persecuzione degli ebrei in toscana dal 38 al 45. Quindi continuando a lavorare su questo tema appunto ho presentato questo progetto soprattutto su spinta di alcuni enti e associazioni del territorio, su questo insisto, mi piace insistere perché è stato diciamo un elemento importante che ha caratterizzato fortemente il progetto, quello di aver costruito una partnership molto articolata, l'operatore culturale è stato l'archivo di Stato di Firenze con un tutor molto competente, il dottor Andrea Tranturli, e poi abbiamo lavorato a stretto contatto con alcune enti e istituzioni a partire appunto dal museo del centro di orientazione delle portazioni della resistenza di Prato, il comune di Bagno a Ripoli, l'associazione per non dimenticare appunto sempre di Bagno a Ripoli che è stata un po' che c'è devo dire è stata un po' l'ente promotrice, c'è venuta a cercare, chiedeva una competenza dell'università e su questo insisto perché mi pare che diciamo questo tipo di progetti ci mostra una anche una necessità anche di riallacciare un dialogo tra molti enti sul territorio e l'università che mi pare sia stata per alcuni temi un po' andata perduta, e poi uno dei tanti istituti appunto della storici della resistenza che abbiamo diciamo nelle varie aree provinciali quello di Livorno proprio per la rilevanza dell'area regionale per il nostro tema. E quindi diciamo questa diciamo questa patrice particolata ha contribuito in modo diciamo molto significativo anche al percorso formativo della segnista perché la segnista è stata, ha lavorato presso l'operatore culturale un anno, quindi presso l'archivio di stato e poi vedremo alla fine insomma questa collaborazione ha prodotto quello che oggi noi chiamiamo un po' il prototipo di questa, di un progetto che deve sicuramente svilupparsi in area regionale, ma ha avuto anche la possibilità di svolgere dell'attività di ricerca ad esempio cinque mesi presso l'istituto, presso il museo della deportazione e resistenza di Prato, di Filini di Prato in cui ha messo, ha costruito delle competenze ad esempio in quell'occasione si sono create dei rapporti di diciamo anche di una sinergia con un master internazionale che noi al Saga sappiamo di History in the Public Sphere, è un master che abbiamo con Tokyo, Budapest, dove appunto la segnista ha formato, è stata diciamo responsabile di una serie di internship proprio sui luoghi dell'internamento, quindi questo è un aspetto che vorrei appunto sottolineare diciamo dal punto di vista generale. Allora gli obiettivi del progetto poi sono stati, erano duplici sostanzialmente, il primo è quello che è quindi obiettivo e anche diciamo caratteristiche metodologiche, il primo è stato quello di organizzare quindi la ricerca su cui diciamo su alcuni aspetti a partire da quella che io stessa avevo condotto, ci sono già degli aspetti di conoscenza a partire da i cosiddetti campi per internati civili, uno a Bagnaripoli che a partire dagli anni 2000 sostanzialmente il comune di Bagnaripoli ha fatto una serie appunto con la stessa dottoressa Nocentini, ha fatto una serie di iniziative anche di diffusione di conoscenza di questa vicenda all'interno della storia del territorio, una a Civitella della Chiana e poi altri campi per civili, però appunto la caratteristica del progetto era quella di mettere insieme le varie tipologie di internamento, non solo campi per civili ma anche una serie di diffuse località di internamento, allo stadio della mia ricerca avevo fatto una valutazione ma la ricercatrice, la dottoressa Renzo, ha cercato nuova documentazione da allora messa a disposizione anche all'archivio centrale dello Stato, quindi diciamo il livello di conoscenza oggi dopo questo progetto è molto più approfondita rispetto a quella che abbiamo. Poi ci sono campi e sottocampi per prigionieri di guerra, cioè abbiamo provato a mettere insieme proprio un sistema di repressione e internamento che visto sulla carta geografica come vedrete è molto capillare e diffuso da partire dal 1940 al 1944. L'altro aspetto che caratterizza questo progetto è di seguirne la memoria e quindi seguire, come dire, da una parte le tracce nella memoria pubblica ma anche le tracce fisiche di questo progetto. Due cose vorrei dire, poi lascio la parola alla dottoressa Renzo. Uno l'ho già, diciamo come contributo alla discussione rispetto all'esperienza di direzione di questo anche bando che ha permesso un assegno biennale. Il primo è quello su cui mi sono già soffermata, cioè per me io credo che sia stata una grande possibilità di costruire delle competenze, specialmente nel mio settore, delle competenze molto importanti per un giovane ricercatore, quello di poter appunto svolgere dell'attività non solo università ma presso enti culturali. Soprattutto l'esperienza dell'archivio di Stato di Firenze perché Chiara ha avuto la possibilità di essere seguita da questo appunto tutor che è un archivista di grandissima competenza, l'ha messa in condizione di costruirsi diciamo un'esperienza di, poi ci ne parlerà perché insieme a, diciamo con l'archivio di Stato, lei ha prodotto questa mostra virtuale e quindi competenze proprio tecniche, tecnologiche molto importanti ecco che solo noi come Dipartimento SAGAS non avremmo avuto modo di mettere a disposizione. E lo stesso ho già accennato alla possibilità di lavorare presso enti di ricerca e centri di ricerca come il Museo delle Portazioni di Prato che per questi temi è oggi un punto di riferimento nazionale e internazionale. L'altro aspetto che invece secondo me è stato un po' critico e quindi come dire il punto debole di questo progetto anche se sono molto soddisfatta appunto sia dei risultati perché nonostante la pandemia e grazie appunto alla collaborazione di tutti siamo riusciti a arrivare in fondo e a produrre appunto quello che avevamo come dire avevamo preventivato e quello che è stato un progetto che finanziava due anni di assegno e quindi la difficoltà del progetto è quella di andare avanti. Cioè essendo noi siamo riusciti a creare appunto un modello di mostra che può essere replicata, tra l'altro noi abbiamo chiuso diciamo il progetto l'anno scorso con un seminario nazionale dove ci siamo confrontati con una serie di ricercatori, di studiosi dei temi in tutta Italia e su quello stiamo collaborando per fare dei progetti a livello nazionale eccetera eccetera, sì sì sto finendo e quindi diciamo c'è questa difficoltà di adesso di trovare nuovi finanziamenti per diciamo ampliare a livello regionale questo lavoro. Lascio la parola a Chiara. Buongiorno mi sentite? Ok, allora l'obiettivo appunto del progetto Sirit abbiamo detto è quello di mappare osservare nel suo insieme il sistema di internamento messo in atto dal regime fascista e poi dalla Repubblica Sociale Italiana quindi abbiamo posto ovviamente la lente di ingrandimento sulla regione toscana e abbiamo visto come queste misure di internamento che vengono introdotte nell'ambito dei preparativi intrapresi dall'Italia in vista dell'ingresso in guerra nel 1940 per salvaguardare l'ordine pubblico e la sicurezza si traducono in una fitta rete di dispositivi di internamento e potete vedere in questa mappa che insomma è una rete abbastanza fitta e distribuita su tutto il territorio della regione. La ricerca si è basata principalmente su fonti d'archivio e reperita all'archivio centrale dello Stato negli archivi di Stato di alcune delle province toscane in primis ovviamente l'archivio di Stato di Firenze l'ufficio storico dello Stato maggiore dell'esercito memorialistica, fonti orali e ovviamente una grande quantità di studi esistenti sugli aspetti più generali relativi all'internamento fascista e poi quelli più specifici sulla regione toscana. Ho anche cercato di coinvolgere gli archivi comunali però diciamo essendo iniziato il progetto proprio in concomitanza con la pandemia c'è chi ha riuscito a collaborare quindi ha condiviso con noi alcuni documenti d'archivio altri comuni invece che hanno diciamo non hanno un archivio comunale organizzato e strutturato in una certa insomma in forma, nella forma classica hanno fatto più fatica però insomma alcuni comuni hanno anche contribuito con documenti. Quindi l'obiettivo principale era quello della mappatura e osservare nell'insieme il sistema di internamento sia ricostruendo la storia di questi luoghi e la memoria di questi luoghi ma anche ponendo l'accento sulle esperienze degli internati. Per esempio, visto che alcuni, diciamo la storia dei campi di concentramento e dei campi provinciali forse quella più nota però grazie al progetto Sirit abbiamo approfondito alcune alcune esperienze come ad esempio quella degli ebrei libici di nazionalità inglese trasferiti quindi da una colonia italiana nei campi di Bagno e Ripoli a Civitella della Chiana e abbiamo visto, diciamo, è una storia molto particolare perché coinvolge soprattutto famiglie intere famiglie molto numerose di ebrei ortodossi quindi che seguono delle regole religiose ben precise che poi vengono deportati a Bergen-Belsen e utilizzati come scambio per scambiarli con altri prigionieri e in questa esperienza di internamento a Bergen-Belsen insomma anche loro subiscono il lavoro coatto quindi questa ricerca è confluita in un articolo che verrà pubblicato sulla rivista storica italiana un altro aspetto molto interessante che emerge da questa mappatura è la localizzazione delle località di internamento libero che è un'altra forma, un'altra tipologia di internamento civile che prevede l'obbligo di risiedere in una determinata località generalmente in affitto in appartamenti privati o in alberghi con questa ricerca sono riuscita a mappare circa 96 località di internamento libero in Toscana quindi 26 nella provincia di Firenze e Prato 21 nella provincia di Siena 15 nella provincia di Arezzo 13 a Pistoia 4 nella provincia di Lucca 8 nella provincia di Grosseto 5 nella provincia di Livorno 2 per Pisa e anche per Massa Carrara in generale sull'internamento libero diciamo che è l'aspetto più difficile da tracciare quello che emerge da questa ricerca è che diciamo prima di tutto c'è una grande mobilità degli internati che cercano di riunirsi molto spesso gli uomini internati nei campi di concentramento cercano di riunirsi a le mogli e i bambini internati nelle località di internamento libero che sono comunque riservate a internati ritenuti meno pericolosi quindi appunto donne, bambini, anziani e famiglie nel caso diciamo della geografia dell'internamento libero veniva gestita in base a due criteri prima di tutto la lontananza di queste località da zone considerate militarmente interessanti e la disponibilità degli alloggi per fare degli esempi da un lato per esempio c'è la provincia di Livorno che è considerata militarmente importante quindi il prefetto di Livorno già nel 1940 dice che non è indicato internare soprattutto elementi che sono politicamente sospetti nelle province di Arezzo, Firenze e Siena vengono messe a disposizione decine di appartamenti soprattutto privati che vengono dati in affitto e quindi adibiti ad internamento per l'internamento dei civili e per fare diciamo un esempio opposto rispetto a quello di Livorno possiamo citare per esempio il caso delle località termali per esempio a Monte Catini Terme risultano internati 910 anglo-maltesi e 160 greci quindi si va da piccoli gruppi che possono essere due o tre internati fino a 20 fino ad arrivare a numeri così importanti in base alla disponibilità soprattutto degli alloggi in parallelo all'internamento dei civili in Italia l'Italia procede anche con l'internamento dei prigionieri quindi in questa mappa vedete anche le località di internamento militare e alcune insomma non riuscite proprio a vederle dalla mappa però diciamo dal 1942 in poi i campi per militari sono quello di Candeli quello di Villa La Massa Candeli quello il castello di Vincigliata il convento di San Romano nel comune di Montopoli-Valdarno e ne vengono poi aperti degli altri come quello di Villa Ascensione a Popi in provincia di Arezzo quello di Laterina e poi un altro in provincia di Lucca e insieme a questi campi ci sono anche dei campi molto vicini agli snodi ferroviari in modo da quindi questa è la mappatura dei campi militari se è possibile passare alla slide successiva quello che abbiamo fatto insomma è un po' riassunto in questa slide le cose principali tra i vari eventi i vari seminari che abbiamo organizzato e sui quali non c'è il tempo di fermarmi vorrei semplicemente diciamo invitarvi a guardare la mostra online l'internamento civile fascista nelle province di Firenze e Prato che è visibile sul sito dell'archivio di Stato di Firenze è una mostra virtuale che è pensata per divulgare una parte della ricerca ad un pubblico più ampio ed è pensata anche come uno strumento didattico quindi ha un uso più ampio ci sono ancora delle pubblicazioni che verranno presto pubblicate e la nostra intenzione è quella di continuare con questi due progetti da un lato la pubblicazione di una guida ai luoghi dell'internamento in Toscana sempre pensata per un pubblico più ampio in modo da raccogliere questi documenti e le storie che siamo riusciti a ricostruire da questa ampia gamma di documenti che è disponibile adesso rispetto insomma a quando è iniziata la ricerca da un po' di anni fa e una pubblicazione invece di carattere scientifico per riflettere sui temi chiave relativi insomma attorno all'internamento fascista mi fermo grazie a tutti